Mi chiamo Noemi Magozzi. Ciao, sono Marco Avila. Sono Simona. Mi chiamo Cristina Colzi. Lavoravo con i bambini in un asilo nido. Ho fatto cameriera, aiuto cuoca in una piccola cucina. Avendo sempre avuto passione per la pasticceria e avendo già fatto altri corsi amatoriali a scuola testieri ho pensato che magari era l'idea giusta trasformare una passione in un lavoro. Ho questo ristorante da cinque anni però non riuscivo più diciamo ad andare avanti. Ho fatto il corso di scuola testieri, il professionale. Ho frequentato il corso professionale base di cucina della testieri. Da lunedì al venerdì tutto il giorno, quindi facevamo dalle otto e mezzo alla mattina alle cinque e mezzo. È dura perché comunque sei otto ore lì, otto ore al pezzo, come se tu stessi lavorando. Ho finito il corso, all'inizio gennaio ho iniziato lo stage qui nella pasticceria Loriana Betti. Ho fatto due mesi di stage. Al termine sono stata assunta come tirocinante per sei mesi. E da pochissimo tempo lavoro forse su un hotel di Firenze in pasticceria. È un'opportunità che non pensavo di raggiungere in così poco tempo. Cioè neanche un anno che faccio pasticceria a livello professionale mi ritrovo già accanto a personaggi di grande valore. Inizialmente ero titubante a farlo. Non volevo farlo che comunque sia come, magari, vabbè, investimento anche di tempo. Non ero sicuro di farlo. Invece, finito il corso, lo rifarei mille altre volte. Mi ha aiutato davvero tanto. Ho sempre litigato con le sac a poche. Come ne riempivo una, mi scoppiava in mano. Cioè, proprio letteralmente scoppiava. Con la testieri piano piano sono riusciti a non farmi scoppiare più le sac a poche. Il corso testieri per me è stata una svolta, proprio nella mia vita. Senza testieri, probabilmente, sarei ancora in quel piccolo ristorante a fare antipasti e qualche dolce così. Lo rifarei perché mi è servito proprio per stabilire delle basi solide e per poi intraprendere questa professione. È stato veramente utile e lo rifarei a occhi chiusi senza pensarci nanti. Nooo, mi fai uccidere. Non so, aspetta. Non so, aspetta. Butlla the body. E ok? Maia! Paia! Maia! Cheah! Maia! Grazie a tutti.